Ancora atletica Luca perché lunedì scorso di fatto sono ripartiti gli allenamenti individuali per gli atleti di interesse nazionale. Categoria della quale fa parte di certo Veronica Inglese, atleta del gruppo sportivo Esercito, che è collegata via Skype con noi. Buonasera Veronica. Buonasera a tutti. Ciao Luca. Ciao Veronica. Come è stata questa ripresa? L'aspettavate un po' immagino questa data del 4 di maggio? Beh, certo. Come ogni atleta di qualsiasi sport perché insomma essere bloccati per noi è veramente un grosso sacrificio. Tuttavia l'emergenza c'era, c'è ancora e bisognava adattarsi insomma al periodo. Quindi ovviamente abbiamo fatto insomma quello che potevamo cercando di sfruttare al meglio le mura di casa per tenerci ancora un po' in allenamento. Anche se è ovvio che gli allenamenti che svolgiamo all'aperto sono tutt'altra cosa rispetto a quello che si può fare in casa. Però in qualche modo abbiamo giostrato anche con il fatto che si poteva uscire vicino, entro i 200 metri da casa. Quindi insomma in qualche modo queste due settimane sono passate. Ora per fortuna grazie al nuovo DPCM ci hanno dato l'ok per ritornare ad allenarci seppur in maniera individuale, però almeno abbiamo di nuovo questa libertà. Anche se bisogna dire che alla fine per via di questa emergenza tutto è stato spostato, è stato rinviato. Per cui non c'è più neanche quella necessità di dover allenarsi per forza. Quindi alla fine sì sono state due settimane dure, però alla fine non fa niente. Giusto così insomma sono poi alle spalle. Veronica quanto ti è mancato e ti sta mancando però l'affetto anche dei tifosi? Perché sappiamo che tu spesso prima insomma del lockdown correvi anche sul litorale con il sostegno dei tifosi di Barletta, dei appassionati di corsa, ecco ti sta mancando questo? Tantissimo, devo dire veramente tanto, anche perché la nostra Barletta si caratterizza anche da questo, si caratterizza dal fatto che basta andare sul lungomare e vedere questa schiera di persone che corrono, che si allenano, che inseguono anche loro nel loro piccolo i propri obiettivi anche a livello amatoriale. E quindi proprio questa immagine, questa scena di Barletta che mi manca, perché ripeto come ho sempre detto, allenarsi a livello professionistico ai miei livelli richiede anche un grosso sacrificio. Però questi sacrifici si vanificano nel momento in cui, voglio dire, corri, soffri, però vedi tanta gente che ti sprona, che ti incita, che soprattutto ti sorride, è solare. E quindi tutta questa atmosfera ovviamente mi manca, anche perché l'atletica è uno sport individuale, e quindi sei da solo con te stesso, ma il fatto di poter condividere anche un saluto, una chiacchiera dopo l'allenamento prima, una foto, qualsiasi cosa con tutto il popolo degli amatori o comunque delle persone che si diletta a correre, è sempre qualcosa che ti riempie e che rompe la monotonia di quelli che sono gli allenamenti. Quindi devo dire sì che tutto questo mi manca e spero che torni il più presto possibile. Hai parlato di obiettivi, Veronica, appunto so che è complicato perché tanti appuntamenti ufficiali sono saltati, ma hai in mente un evento che potrebbe ancora consumarsi nel 2020? In pista c'è la speranza di tornarci entro la fine di quest'anno? Certo, in questo momento è tutto un punto interrogativo. Noi stiamo aspettando le disposizioni della federazione. Per quanto riguarda le gare a livello nazionale, compresi i campionati italiani, ancora non si sa molto. Si ipotizzano dei campionati italiani verso fine agosto. Però è tutto un punto interrogativo, ripeto, perché ogni disciplina nell'atletica è diversa. Mentre una gara, vi faccio l'esempio, di salto con l'asta o salto in lungo, o anche le gare di velocità, si possono fare mantenendo delle distanze. Ovviamente le mie gare, quelle di mezzo fondo, dove c'è il contatto con l'avversario, è difficile poterle svolgere, perché non si potrebbe mantenere tale distanza. Per cui, sulle modalità con cui si possono svolgere c'è un punto interrogativo. Di conseguenza, anche tutte le manifestazioni, anche a livello nazionale, non sono ancora state definite. Per quanto riguarda gli obiettivi internazionali, che ovviamente sono quelli che ci interessano anche maggiormente, ovviamente europei e olimpiedi, come sappiamo, sono state spostate l'anno prossimo, gli europei, a quanto pare, sono saltati completamente, dovevano disputarsi a fine agosto. Quindi l'unico appuntamento che in questo momento rimane ancora da calendario e che è stato spostato perché doveva essere svolto a fine marzo, sono i campionati mondiali di mezza maratona, che mi interessano anche particolarmente. Questi sono stati spostati ad ottobre. Per ora rimangono nel calendario, per cui si spera che almeno questo obiettivo per la fine del 2020 ci sia. E noi speriamo ovviamente poi di accompagnarti, Veronica, nel racconto dell'avvicinamento a questo evento. Intanto grazie a te e buona prosecuzione degli allenamenti. Grazie a voi, un saluto a tutti.